Ehi, ciao ragazzi Ma come state? Sono troppo contenta che siete venuti a trovarmi Certo, quando ho visto la prenotazione sono impazzita Devo occuparmi personalmente Siete di te, chiedete Assolutamente Ma certo, ho letto comunque che avete prenotato per qualcosa di molto semplice Ma sì, ora iniziano le belle giornate Bisogna dare una spuntatina Poi avete dei capelli allucinanti da tutti e due Ma da quant'è che non venite a tagliarli? Sono lunghissimi Tu li hai sempre avuti lunghi ma tu Sembri Tarzan, davvero Bisogna assolutamente rimediare Dai Allora, guardate qua Ci sono tutti i giornali, le riviste e tutto Quindi, chi vuole iniziare? Così l'altro aspetta Partiamo da te, cara Perfetto, che magari lavoro un po' più lungo Tu intanto, maschietto, vatti a fare un giro Ok Dai, come stai? Tutto bene? Certo Immagino il lavoro in questo periodo magari è un po' pesante Non ti preoccupare Oggi sei qui per la sala Eh già, anche me Sono allungati molto i capelli Sì, oggi li ho super lisci Però ogni tanto sì Mi piace ultimamente farli mossi O no, con l'arrivo dell'estate Sono belli Dimmi tesoro Avevi delle idee Su cosa fare? Innanzitutto li vuoi bagnare Li vuoi inumidire un pochino Oppure vuoi Proprio lavarli Però vedo che sono puliti Fammi dare un'occhiata Ma sì Tesoro guardi Io li bagnerei Eh sì, pensavi anche tu Dai, allora li bagniamo E poi ti pettino un pochettino Intanto Parliamo un po' E prima del taglio Decidiamo insieme come farli Va bene? Perfetto Allora tesoro Guarda ti vado a mettere Questo telo Attorno Così non ti bagni Non ti sporchi Ok? Allora Ecco qua Non lo facciamo dietro Perfetto tesoro Allora Andiamo a bagnarli un po' D'accordo? Ok, chiudi gli occhi E rilassati Intanto io ti bagno Un po' i capelli Ah, vado a bagnare un bel po' Perché Così il taglio sarà Veramente efficace Ok, da questa parte Ok, su Un po' i capelli Pronto Sì E infine Infine un po' sopra Qua Perfetto Ok tesoro Apri gli occhi Sono perfettamente Inumiditi Possiamo partire Se dopo avremo bisogno Li andremo a bagnare Un altro pochino Nelle zone Sì Necessari Allora Andiamo subito A pettinarli Un po' Con questa spazzola Sì È una spazzola Molto buona Non andrà a tirarti i capelli O a strapparteli Allora Dimmi Intanto Pettinazione un pochetto Come ne vogliamo fare? Vogliamo dare una spuntatita Non puoi tagliarli tanto? No Ma ragazzi i capelli così parelli lunghi Ora sono anche troppo lunghi Magari c'è qualche doppia punta Quindi è meglio andarle a togliere Quindi poi quest'estate Verrai Mare, sole Caldo Si rovineranno ancora di più E poi dopo sarà più difficile rimediare Vai Andiamo a fare una spuntatina Generale Poi cosa dici? Andiamo anche un po' qui nel ciuffo Questo magari lo tagliamo un po' di più Lo scaliamo Va bene Benissimo Perfetto Ora i nodi Non ci sono più Vado a prendere subito cara Le mie forbicine Sai che io mi trovo meglio tagliare con queste forbici un po' più grandi Semplicemente perché ho più controllo Ok Andiamo subito a dare una spuntatina sulle punte Guarda Li bagno un altro pochetto Ok Andiamo Mi aiuto con questo pettine Molto semplice Sì Allora Vado a tagliare veramente poco Non ti preoccupare Intanto tu dimmi Ho visto che sei anche stata in vacanza Sì Eh beh Sicuramente là sarà stato molto caldo E invece Col tuo lui Tranquillo Non gli ritaglio tanto Sì guarda Lascia stare Anche quando il mio ragazzo torna a casa Praticamente era stato a zero Mi arrappio Quindi Non ti preoccupare Gli ritagli veramente poco Guarda Hai un colore veramente bello Beh Hai sentito bene Sai che è una tinta Comunque Questo colore qua Difficile Che tenga così Con i vari lavaggi Si scolorisce molto Diventa totalmente Imposto come colore Eh già Ti ricordi un tempo Sono stata anche così Le doppie punte Alla fine sono meno peggio Di quanto pensassi Sai Non sono poi così Irrecuperabili Ma sai che mi piace Essere molto drastic Io? No È tutto ok Sta il lavoro Va bene Sì sta bene Sta bene Dai adesso Si avvicina la bella stagione Siamo tutti proprio contenti Eh Ho degli esami Gli esami ci sono sempre Però dai Quest'estate Farei ancora una bella vacanza Delle tue Ah Bello Io adoro la Sardegna Ci sono andata Tutti gli anni Per undici anni Di filo Quest'anno no Andrò in Croazia In barca Ci sei mai stata? No Eh Dopo ti farò sapere Eh Sì Sono molto molto emozionata Speriamo bene Ovviamente Dovrò fare in certa Di costumi Prima di partire Guarda cara Ti vado a fare Un po' Un taglio più ravvicinato Scusami se Ti sto Molto vicino Sì sì L'abbiamo quasi fatto Guarda Solo un po' Di Ultime puntine Qua Di capelli volanti Perfetto cara Guarda Secondo me La lunghezza Non la toccherai Più di così Sei d'accordo? Immagina Sì sì Mi piacciono molto Ora mi occuperei Del ciuffo Sì guarda Io ormai Non l'ho più Praticamente Dall'ultima volta Che ci siamo viste Sono cresciuti molto Sì Il mio ormai Si è compattato Agli altri capelli Però diciamo Che sì Sul tuo viso Magari Ecco Lo accorgiamo un po' Lo scaliamo Guarda Ma da dio Allora Andiamo così Un attimo A pettinarlo Meglio con la spazzola Lo portiamo qui In avanti Perfetto Bagniamo un po' La zona Ok Vado Sì 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 La scatura Alla fine è molto Veloce da fare Guarda Un po' Più corto Ok Così guarda Ti arriva Giusto qua Molto bello Un sacco Stiloso Tesoro Per me Così Sono perfetti Cosa dici Sì dai Va benissimo Poi tanto Credo che tornerai Per Rifare il colore Eh Magari poi Li sistemiamo Poi Però dai Per stavolta Secondo me Vanno benissimo Allora Li facciamo un po' Ma sì Ti va Ma sì Dai Un po' Di onde morbide Niente di che Qua sul fondo Così E giriamo un po' Il zuffo qua Va bene Dai Secondo me Starebbe benissimo Allora Guarda Il ferro L'avevo già attaccato Sì Uso sempre questo qua Questo qui Con Appunto L'assina Così che si muove Lo trovo molto pratico Guarda Ce ne sono anche Di buoni Che costano pochissimo Ma certo Guarda Dato che sei un'amica Non ti consiglio Di comprarlo qui Perché Veniamo quelli professionali Certo Però Sì Dopo Se vuoi ti lascio Qualche marchio Ok Per far Andiamo subito Va bene Sì Ma niente di che Guarda Pettiamo un po' La zona Poi andiamo A prendere Così Aspettiamo un po' Ok Andiamo 3 5 5 6 6 7 8 10 31 20 Ma sì, giusto un po' qua Proprio sulle punte Un po' quell'effetto Alla Belen Un po' qua nel zufo Guarda, giriamo così Di qua Ok Qua in fondo Per me Così sono molto belli, molto naturali Mi hai chiesto qualcosa di naturale Sì, sì, sì Guarda, io davvero sono molto molto fiera del risultato Ci abbiamo messo pochissimo E dai Sì, poi dopo davvero li risistemiamo Ti do un po' di lacca Va bene? Ah sì, giusto per fissare un attimo Qua la zona Niente di che Vai Sì, sì, ma giusto proprio Un pochettino per fissare Ma sì D'accordo Vado Ok Ok Sì Anche a me piace La torre della lacca Ok tesoro Guarda Adesso poi Fai un po' A testi in giù Vai a testi in giù Torna su Con forza Perfetto Ok Giriamo un attimo Perfetta Sei stupenda Guarda Davvero Sì Vai a farti vedere subito Certo E mandamelo qua Che gli do una spuntata E poi tutto tua Ok Vai Va bene tesoro Alla prossima Eh Ma puoi aspettarlo tranquillamente in macchina Ci metteremo un poco Ciao gara Ci vediamo Ehi Ma sì Hai visto come l'ho fatta bella Ah Guarda Le ciletano benissimo Eh sì Dai Anche a te Abbiamo Anche a te Abbiamo una spuntatina Che davvero Bisogna Assolutamente farlo È necessario Allora Inovitiamo un po' Anche i tuoi No Ti appoggio il telo Così non ti sporchi D'accordo Otra Tent Team Gli Gi Anche Gi 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 Ok Benissimo Allora guarda Da un attimo un'occhiata a questi capelli Sì poi guarda Io ti dico Mi sento di consigliarti Se vorrei venire a fare la barba Certo Sistemarti un attimo Quando vorrai Magari se non ti va di fare la casa Qui abbiamo anche il barbiere Che se ne occupa O posso farlo anch'io Quindi se vuoi poi quando vai appunto alla casa Puoi prendere un appuntamento per il futuro Ok Allora guarda Tu hai un capello un po' mosso Un po' di pelle Sì però si sono allungati tantissimo davvero Ok Andiamo a Dare una pettinata ok Sì non ti faccio male tranquilla Ma sì Faremo prestissimo di preoccupare Anche perché ti sta aspettando Vogliamo farlo aspettare con i suoi capelli nuovi Perfetto Guarda Andiamo Come li facciamo? Abbiamo una spuntata semplice È un po' qua magari Nei lati Qua dietro Sì No no Non andiamo ad alterare molto Questo tuo aspetto Un po' da rocker Sì sì Ah ma a proposito Con la band come va? Bene No ma infatti Sì me lo diceva Qualche giorno fa Farete un concerto Ma verrò assolutamente Ti ho visti Ancora ma siete bravissime Ok Andiamo Partiamo Sì te li faccio un po' scalati sotto Sì un pochino Spantaggiati come dici tu Ok No no tranquilla Nessun taglio drastico O troppo perfettino Lo stile Mi è ben chiaro Ma cioè Ti stanno comunque bene I capelli lunghi Cioè Poi alla fine Che Ma chi l'ha detto Che l'uomo deve avere i capelli Rasati a zero Pure stracurri Cioè Mi piacciono Molto Faccio un taglio Un pochino più Deciso Qui sul davanti Che proprio ti stanno andando Sugli occhi Quindi Non dobbiamo necessariamente Rimediare Ma nulla di che Proprio Ma sì guarda dai Lì Spantaggia un attimo Ok Ti scaccia se ti do Una spruzzata di racca E alcuni punti così Li facciamo proprio Voluminosi Ok 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 guarda secondo me sono perfetti ah si te l'avevo detto che ciò avevo messo poco guarda un attimo un capello ho visto un capello guarda sono molto 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 migliorati ma si dai ci voleva ci voleva ci voleva ricordati che appunto per la barba siamo qui dai ho fatto ma si non ti preoccupare ma quando vedi che si allungano un po' torna tanto ci mettiamo davvero 5 minuti ok dai allora ci andiamo al concerto vai pure alla cassa e raggiungila che sto aspettando ok dai spero vi siate trovati bene è stato un piacere un bacione ci vediamo presto ciao 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 ciao